Credo che esista la terapia del colore, cioè effettivamente il colore ha sulla nostra spiritualità, sulla nostra personalità un effetto positivo, se il colore è chiaro, se il colore è vivace. E' un effetto negativo se il colore è scuro, per cui io ho sempre puntato verso quelli che Andy Warhol chiamava il colore neon. E appunto un giorno chiesi ad Andy Warhol come mai i suoi quadri mi sembravano sempre così moderni, cioè lui prendeva una cosa e la rendeva moderna, lui ha detto no, semplicemente perché io uso i colori dei neon, cioè i colori dei neon di New York rappresentano la contemporaneità e la pop art è la mitologia della contemporaneità. Io ho definito, ho creato uno slogan che dice fine della paura, inizio della vita, perché noi veniamo al mondo ma senza saperlo, veniamo al mondo con delle paure, temiamo il diverso, temiamo il nuovo, temiamo il resto. Io ho scoperto che molte volte se perdi la paura, prima di tutto nasce l'amore, perché nasce l'amore verso gli altri, finisce la paura per cui ami gli altri, e ami anche le cose diverse dalle tue. E questo è stato un po' il motore di tutto, cioè io uso sempre questo slogan, fine della paura, inizio della vita, oppure fine della paura, inizio dell'amore. Cioè quando tu smetti di avere paura, incontri la gente, hai tanti amici, hai tanta gente che ti vuole bene, si innesca diciamo un processo positivo, un processo diciamo costruttivo anche per la tua anima, per il tuo modo di essere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.